Ogni volta che contempliamo le cose grandi che l'Onipotente ha fatto per te e in te, proviamo una così viva malinconia per le nostre mentezze, che sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti e starti accanto. A seconda, pertanto, il nostro desiderio di prenderti per mano e accelera le nostre cadenze di camminatori un po' stanchi e d'alora spieguciati, divenuti anche noi pellegrini nella fede e nella speranza. E allora cercheremo il volto del Signore, ma contemplandoti, quale icona della sollecitudine umana, verso coloro che si trovano nel bisogno, raggiungeremo anche noi, in tutta fredda, la città, regandone gli stessi frutti di gioia che tu un giorno portasti ad Elisabetta lontano. Il Signore sia con noi. Adesso vi do la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il Signore che vi benedica, Dio il potente Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte e arrivederci a domenica. Staremo un po' stretti, ma c'era una canzone che diceva Stritti, stretti, nell'arca di noi si può attraversare il mare procedoso e arrivare al traguardo. Buonanotte.